Inserire pagina A3 in Word A4. Ciao a tutti. Siete stanchi di dover creare documenti che si limitano alla solita banale dimensione A4? Siete pronti ad esplorare nuovi orizzonti nella creazione di documenti in Word? Allora siete nel posto giusto. Oggi vi parlerò di come inserire una pagina A3 in un documento Word A4. Prima di tutto, perché doveste considerare l'uso di una pagina A3? Beh, le dimensioni più grandi offrono maggior spazio per presentazioni, progetti, brochure, poster e così via. Inserire una pagina A3 all'interno di un documento A4 vi permetterà di creare documenti più accattivanti e professionali. Ma come si fa? Innanzitutto, aprite il vostro documento in Word e selezionate la pagina in cui desiderate inserire la pagina A3. Quindi, andate sul layout di pagina e selezionate dimensioni pagina. Qui, scegliete l'opzione altre dimensioni di pagina e selezionate A3 dalle opzioni disponibili. Una volta selezionata la dimensione A3, noterete che il vostro documento si è ridimensionato automaticamente per adattarsi alle nuove dimensioni. Ma attenzione! Questo potrebbe causare problemi nella formattazione del testo e delle immagini. Per risolvere questo problema, è necessario utilizzare le funzioni di sezione e colonne. In questo modo, potrete creare un layout ben bilanciato e professionale. Inoltre, è importante considerare l'orientamento della pagina. Potete scegliere tra verticale e orizzontale, a seconda delle esigenze del vostro progetto. Per modificare l'orientamento della pagina, andate sul layout di pagina e selezionate Orientamento pagina. Insomma, inserire una pagina A3 in un documento Word A4 non è così difficile come sembra. Basta seguire questi semplici passaggi e sarete in grado di creare documenti sorprendenti e accattivanti. Non dimenticate di condividere questo video con i vostri amici e di iscrivervi al nostro canale per altre fantastiche lezioni su Word. Grazie per aver guardato. Grazie per aver guardato questo video. Se volete aiutare il canale non dimenticate di iscrivervi. Da qui vi auguriamo una buona giornata. Grazie per aver guardato il nostro canale.